Rientrava, lancio lungo per Sescovic, che in aria controlla il pallone e lo affida Giordano che da gran campione segna, è l'1-0. La Fiorentina risponde e supponizione deviata da Borgonovo pareggia, siamo al ventesimo. Poi è ancora la Fiorentina, lancio di Dunga per Borgonovo, mezza rovesciata in aria e ottimo intervento di Pazzagli. Poi è Lascoli, quarantunesimo, Carillo in aria, fermato così da Bosco, per l'arbitro è tutto regolare. Andiamo al secondo tempo, il solito Borgonovo a impegnare il bravo Pazzagli. Poi è l'oscio dell'Ascoli, Giordano di poco al lato. Ancora Giordano, fuori misura il suo tiro. E a quattro minuti dal termine, l'ultima occasione per dell'olio, il pallonetto sopra la traversa. Che dire di questo?